Rimango consigliere del Partito Democratico non perché c'è stato un giudizio da parte del segretario, ma perché i cittadini hanno avuto così quando mi hanno eletto nella lista del Partito Democratico e all'opposizione del sindacolo Biundo. Si apre certamente invece una ferita enorme nei confronti della dirigenza di questo partito che è incapace anche di questo tipo di gesti. Il fatto che viene sottolineato che quel documento è un atto politico è qualcosa di veramente grave. Innanzitutto per il contenuto, per come è scritto, per i riferimenti, per le assurdità che vengono contenute, ma soprattutto per le firme. È un documento pubblico che viene presentato al Consiglio Comunale con delle firme un po' scarabocchiate, non vorrei definirle false, mi sembra qualcosa di veramente grave, su cui a questo punto deve riflettere la dirigenza, deve non riflettere i consiglieri comunali, deve riflettere il capogruppo che certamente è assolutamente inadeguato al ruolo che sta svolgendo. Io mi sono impegnato e vorrei continuare a impegnarmi in politica perché il Partito Democratico offra soluzioni per questo Paese, così come abbiamo sempre fatto. Da un anno e mezzo invece il Partito non interviene più su nulla, non sentiamo una parola, un intervento, un'indicazione, si è appiattito sulle posizioni dell'amministrazione e come ben sappiamo l'amministrazione è all'asciutto. Sarebbe il caso di riprendere, di rilanciare attraverso l'intenzione che i veri democratici hanno nel momento in cui vogliono contribuire alla vita di questo Paese. Noi abbiamo iniziato con Spazio Democratico, speriamo che anche altri si aggiungano e altri avviano altre iniziative in maniera tale che la storia dei democratici possa riprendere seriamente in questo Paese. Grazie a tutti.